Che bello vedere il nuovo libro del Marelli, Portati Cinese, e già ci sono dentro anch'io perché sono andato in Pomponazzi, un po' fuori, una volta era fuori, fuori, adesso c'entro, ma io consiglio a tutti, per Natale, in tempi che tutti dicono i soldi dove sono, le cose, un libro non costa molto ma c'è dentro qualcosa di noi, qualcosa di vero, per cui, certo il Marelli è bravo, io mi limito a fare qualche prefazione di qui, due balle di là, anche qui c'è una cosa che ho scritto io, il Marelli è unico.